L'esito del primo turno delle elezioni legislative in Francia suscita inquietudini anche in Germania. Il cancelliere Olaf Scholz già nei giorni precedenti al primo turno del 30 giugno aveva espresso la propria preoccupazione. L'impatto sulla politica tedesca potrebbe infatti essere importante. A lot of work would have to go into normalizing relations between France and Germany. Germany calls France its most important and closest ally in Europe. Chancellor Scholz said about a week ago that he was concerned about the election. He said he'd be happy for any party without Le Pen to be successful. But he said it was up to French people to decide. Alcuni analisti spiegano che l'influenza di Berlino sull'Unione Europea potrebbe diminuire nel caso in cui l'estrema destra di Marine Le Pen e Jordan Bardellat dovesse ottenere la maggioranza assoluta al secondo turno. In particolare, Matthias Diermeyer dell'Istituto Economico Tedesco aggiunge che la Germania si ritroverebbe limitata nel portare avanti grandi progetti nell'Unione Europea se dovesse vincere l'estrema destra. Le testate giornalistiche tedesche intanto sottolineano il grande rischio che ha deciso di correre il presidente francese Emmanuel Macron che dalle elezioni esce come il grande sconfitto. Un membro della SPD si è spinto più in là osservando come la Germania dovrebbe prepararsi ad accogliere Marine Le Pen nel ruolo di presidente. Grazie. Grazie a tutti.